Chi di voi sapeva che Firenze un tempo è stata capitale d'Italia? Questo lo raccontiamo io e Gianmaria nello spettacolo Sison Sassi. No, no, no. Fu capitale d'Italia dal 1865 al 1871. E noi questo lo raccontiamo nello spettacolo Sison Sassi. Ancora no. Piazza della Repubblica, per esempio. Prima c'era Mila. C'era il ghetto. C'era tutte delle stradine intricate con palazzi faticenti. Furono buttate su tutte le antiche mura di Firenze e a loro posto vennero creati i viali di circonvallazione. E noi raccontiamo questo nello spettacolo... Ma no, no. Furono però lasciate in piedi le antiche porte di accesso alla città. Non tutte però, perché? Porta Camaldoli. Porta Polverosa. Porta Faenza. Porta della Vagaloggia. Quelle furono definitivamente buttate giù. E noi questo lo raccontiamo nello spettacolo. E anche la Torre del Maglio, che era forma di piramide, è stata buttata giù. Piazzale Michelangelo fu creato proprio in quell'epoca lì. Ma riuscite a immaginarvi Firenze senza questa vista? Dove sei tu, Madonna? Anzitri, l'ammi anzitri. E vi siete mai chiesti perché c'è un cimitero in mezzo ai viali? Che scendi tu caschi! Tante cose sono cambiate. Tante cose cambieranno. Perché una città... È un organismo in continua evoluzione. Vai, ora tu lo puoi dire? No, non lo io più. Si sono sassi dal 26 di dicembre al Teatro di Fiesole. Come tu sei piccoso però... No, non lo subito. Grazie a tutti.